. Stavo facendo quattro chiacchiere col vecchio Troy della polizia metropolitana all'angolo di Erbour Hill. E mi venga un accidente se non mi arriva un fottuto spazzacamino e per poco non mi cacciava il suo arnese in un occhio. Mi volto di botto per fargli vedere se mi puzzava il fiato o no quando chi ti vedo a bighellonare dalle parti di Stony Butter? Heinz, Joe Heinz in persona. Toh, Joe gli fa. Cosa si fa di bello? Che l'hai visto con lo spazzacamino fottuto che per poco non mi cava un occhio con la sua granata? La fuliggine porta bene, fa Joe. Chi era quel vecchio coglione che parlava con te? Il vecchio Troy, faccio io, stava nella polizia. Mi verrebbe quasi la voglia di dar querela a quel bischero per occupazione abusiva del suolo pubblico con le sue spazzole e le sue scale. E tu? Che fai da queste parti? dice Joe. Niente di speciale, dico io. C'è un vecchio furbacchione fottuto d'un ladro laggiù alla chiesa della caserma all'angolo di Chicken Lane. Il vecchio Troy mi stava giusto spifferando qualcosa su di lui. Che s'è fregato un buscherio di tè e di zucchero da pagare a trescellini la settimana. Ha detto che aveva una fattoria nella contea di Down e così gliel'ha fatta a quel soldo di cacio di Moses Herzog, quello che sta dalle parti di Erzbury Street. Un circonciso? dice Joe. Eh sì, faccio io. Uno ha un po' sonato. L'altro è un vecchio stagnaro di nome Geraghty. Gli sto alle costole da quindici giorni buoni e non mi riesce di cavargli un penny. È questo il lavoro che fai adesso? dice Joe. Eh sì, faccio io. A cosa siamo ridotti? Esattore di mali debiti dubbi. E quello là è il più famigerato grassatore fottuto che potrai mai incontrare con quella faccia tutta butterata che pare un colabrodo. Glielo dica? mi fa. Lo sfido? mi fa. E lo risfido di mandarla qui un'altra volta? mi fa. E se lo fa? mi fa. Lo farò chiamare in tribunale. Lo farò per commercio senza licenza. Tutto questo dopo essersi abbuffato da scoppiare? Cristo! E a me che mi veniva da ridere all'ebreuccio che non stava più nei panni dalla rabbia. Lui bere i miei tè. Lui mangiare i miei zuccheri. Perché lui non pagare i miei denari? Per merci non deperibili. Acquistate presso il signor Moses Herzog, commerciante, 13 St Kevin's Parade nella città di Dublino, rione Riva Wood, commerciante, qui in appresso denominato il venditore, e vendute e consegnate al signor Michael E. Gerhardt, 29 Arbor Hill, nella città di Dublino, rione Riva Arran, qui in appresso denominato l'acquirente, cioè a dire cinque libri a voir du poids di tè di prima scelta, a tre cellini e zero pence la libra a voir du poids, e 42 libri a voir du poids di zucchero cristallizzato, a tre pence la libra a voir du poids, detto acquirente deve a detto venditore, una lira sterlina, cinque cellini e sei pence per valore ricevuto, il cui a montale dovrà essere pagato a detto venditore da detto acquirente contraente il debito in rate settimanali mediante versamento ogni sette giorni della somma di tre cellini e zero pence. E dette merci non deperibili non dovranno essere né cedute impegno né depositate come cauzione né vendute o altrimenti alienate da detto acquirente ma dovranno essere rimanere e ritenersi sole ed esclusiva proprietà di detto venditore affinché egli ne disponga secondo la sua volontà e piacere fino a quando detto a montare non sia stato debitamente versato da detto acquirente a detto venditore in conformità delle norme specificate nel presente atto secondo quanto concordato in dato odierno tra il detto venditore e i suoi eredi, successori, rappresentanti e delegati da una parte e il detto acquirente e i suoi eredi, successori, rappresentanti e delegati dall'altra parte. Sei un astemio convinto? dice Joe. Tra un bicchierino e l'altro non piglio nulla, faccio io. Che ne diresti di presentare i nostri omaggi all'amico? dice Joe. Chi? faccio io. Ma quello è uscito mentecatto di sicuro, poveraccio. A bere gli intrugli che fa lui? dice Joe. Eh sì, faccio io. Il cervello gli è andato in acqua e whisky. Facciamo una puntata da Barney Kiernan, fa Joe. Voglio vedere il cittadino. E vada per il buon vecchio Barney, faccio io. Niente di fantastico di sensazionale, Joe. Neanche l'ombra, dice Joe. Sono stato a quel convegno al City Arms. Che roba era, Joe? faccio io. Mercanti di bestiame, dice Joe, per quella storia dell'afta epizootica. Voglio dir due paroline in proposito al cittadino. Così ci siamo avviati dalla parte della caserma Lenehall e dietro il tribunale, chiacchierando del più e del meno. È una brava persona, Joe, quando è in forma, ma è sicuro che non succede mai. Cristo, non riuscivo a mandarlo giù quel furbacchione fottuto di Gerarty, grassatore da strada maestra. Per commercio senza licenza, dice lui. Ad Innisfoy la Bella va una contrada. La contrada del venerabile Maiken. Evie, serge una torre, che Wom vede da lungi. Evie, i possenti morti hanno riposo, come nella loro vita riposarono, guerrieri e principi di vasta rinomanza. È una contrada aprica, in verità, con acque murmuri, con correnti pescose, ove folleggiano il pesce farfalla, la sogliola, la carpa, l'ippoglosso, il merluzzo gobbo, il salmone, il rombo, il merlano nero, la lima, e tutta la torva di pesci volgari e altri abitatori dell'acquorio regno troppo numerosi per essere numerati. Alle miti brezze d'Occidente e d'Oriente i maestosi alberi fanno ondulare in varie direzioni il loro fogliame di prima qualità, il balsamico sicomoro, il cedro del Libano, il platano slanciato, l'eugenico eucalipto e altri ornamenti del mondo arboreo di cui quella plaga è abbondantemente fornita. Amabili damigelle si assidono in stretta prossimità alle radici degli alberi amabili, cantando le canzoni più amabili mentre giocano con ogni sorta di amabili oggetti, quali ad esempio lingotti d'oro, argente i pesci, barilotti di eringhe, cassette di anguille, merluzzini, panieri di stelline di mare, gemme di mare, violacee e insetti festevoli. E vengono da lungi gli eroi per conquistarle, da Eblana a Slyvmergy, gli impareggiabili principi dell'indomito monstere di Connacht il Giusto e dell'ene morbido Linster e della terra di Croairn e di Amah la Splendida e del nobile circondario di Boile, prengi figli di re. E ivi serge un fulgido palagio, il cui tetto di cristallo scintillante scorgono i marinai che traversano l'esteso mare su vascelli costruiti all'uopo. E qui vi giungono tutti i greggi e gli animali ingrassati e le primizie di quella contrada, da poiché O'Connell Fitzsimons ne toglie Balzelli, grande capo, progenie di capi. Quivi gli immensi carri portano le messi dei campi, panierate di cavolfiori, carrettate di spinaci, ananassi in conserva, fagioli di Rangoon, staglia di pomodori, barattoli di fichi, moggi di navoni di Svezia, patate sferiche e iridescenti cavoli di York e di Savoia, e telai di cipolle, perle della terra, e cestini di funghi, e zucche gialle, e grasse vecce, e orzo, e colza, e mele rosse, verdi, gialle, marrone, rossastre, dolci, grosse, agre, mature, pomellate, e canestrelli di fragole, e panieretti di riba spolposo e pelurioso, e fragole degne di principi e lamponi spiccati dai loro ramoscelli. Lo sfido, dice lui, e lo disfido. Vieni fuori, Gerarty, famigerato fottuto grassatore da strada maestra. E per la medesima strada sen vengono innumeri greggi di becchi, col campanaccio, e pecore gonfie di latte, e arieti appena tosati, e agnelli, e oche selvatiche, e vitelloni, e giumente anni trenti, e vitelli scornati, e pecore a pelo lungo, e pecore da chiuso, e torelli di prima scelta di caf, e animali sterili, e scrofe, e porcelli da lardo, e le più svariate e differenti varietà dei più distinti suini e giovenche di angas, e torelli senza corna dal pedigree immacolato, insieme a premiate vacche da latte e buoi. E ivi, eternamente, sentivasi un trapestare, e ciangottare, e ruggire, e mugire, e belare, e mugugnare, e grugnire, e ruminare, e masticare, di pecore, e porci, e vacche solidungule, giunte dai pascoli di Lask e di Rush, e di Carrick Miles, e dalle valli irrigue di Thurmond, dai vapori dell'inaccessibile McGillicuddy, e dall'insondabile imperioso Shannon, e dai leni declivi d'onde nasce la razza di Chiar, le mammelle tese per l'abbondanza di latte, e bottazzi di burro, e vesciche di siero, e caratelli, e petti d'agnello, e staia di frumento, e uova oblunghe a centinaia, di varia grandezza, color agata, e color ambra. Così si entrò da Varney Kiernan, ed eccotelo là. Non c'è pericolo. Il cittadino, in un angolo, tutto immerso a confabulare fra sé con quel suo fottuto cane bastardo rognoso, Gary Owen, ad aspettare che piova dal cielo qualcosa da bere. Eccolo là, faccio io, nel suo buco col cicchetto davanti e il suo mucchio di cartacce, a lavorar per la causa. Il bastardo fottuto cacciò un ringhio da farti rizzare i capelli. Sarebbe un'opera di carità corporale se qualcuno gli togliesse la vita a quel cane fottuto. Ma hanno detto di sicuro che a Santris è mangiato il fondo dei pantaloni d'un vigile, che era venuto con un foglio azzurro per una licenza. «Alto là!» dice lui. «Tutto a posto, cittadino!» dice Gio. «Siamo amici!» «Via libera, amici!» dice lui. Poi si stropiccia un occhio con una mano e dice. «Che ne pensate della situazione?» Faceva l'irregolare e il rori re della montagna. Ma per Diana Gio fu all'altezza della situazione. «Credo che ci sia un rialzo sul mercato!» dice cacciandosi una mano fra le gambe. «Così!» per Diana. Il cittadino sbatte una zampa sul ginocchio e dice. «Tutta colpa delle guerre straniere!» «Per una mezza corona!» «Dalle un nome, cittadino!» dice Gio. «Vino nazionale!» fa lui. «E tu cosa prendi?» dice Gio. «Idem McHenispy!» faccio io. «Tre pinte, Terry!» dice Gio. «E la carcassa funziona sempre bene, cittadino?» dice. «Mai stato così bene, ahara!» dice. «Allora, Gary, vinceremo, eh?» E con questo prese per la collottola quel fottuto cagnaccio e per Cristo mancò poco lo strozzasse. La figura seduta su un grosso macigno ai piedi di una torre rotonda era quella di un eroe. Ampie le spalle, vasto il petto, forti le membra, franchi gli occhi, rossi i capelli, abbondanti le lentiggini, ispida la barba, grande la bocca, grosso il naso, lunga la testa, profonda la voce, nude le ginocchia, muscolose le mani, pelose le gambe, acceso il volto, nerborute le braccia. Da spalla a spalla misurava parecchie anne e le sue ginocchia montuose simili a rocce erano coperte al pari del resto del suo corpo dovunque appariva d'una spessa vegetazione di peli pungenti e fulvi per colore e durezza simili alla ginestra di montagna, ulex europeus. Le nari dalle ampie pinne, d'onde fuoriuscivano setole dello stesso colore fulvo, erano talmente capaci che all'interno della loro cavernosa oscurità la lodoletta avrebbe agevolmente potuto fare il suo nido. Gli occhi, in cui una lacrima e un sorriso si disputavano eternamente il primato, avevano le dimensioni di un cavolfiore di discreta grandezza. Una poderosa corrente d'alito caldo usciva a intervalli regolari dalla profonda cavità della sua bocca, mentre con ritmica risonanza le vigorose, forti e sane ripercussioni del suo cuore formidabile tuonavano un continuo brontolio facendo sì che il terreno, la sommità della torre elevata e gli ancor più elevati muri della caverna ne vibrassero e tremassero. Indossava un lungo vestimento senza maniche di pelle di bue scuoiato di recente, che gli arrivava alle ginocchia a mo' d'ampio gonnellino, e questo era ricinto alla vita da una cintura di giunchi e paglia intrecciati. Sotto di questo portava brache di pelle di daino, rozzamente cucite con minugia. Le estremità inferiori erano inguainati in alte uose berbrigang tinte con viola di lichene, essendo i piedi calzati di scarponi di cuoio di vacca ben secco e stringhe di trachea dell'animale istesso. Dalla cintura pendeva una filza di ciottoli marini che si scrollavano a ogni movimento della sua portentosa struttura, e su di essi erano incise con arte incolta ma vigorosa le immagini tribali di molti eroi ed eroine irlandesi dell'antichità. Cocalin, con delle cento battaglie, Niall dei nove ostaggi, Brian di Kincora, il santo Malachia, Art McMurrag, Shane O'Neill, padre John Murphy, Owen Rowe, Patrick Sarsfield, Hugh O'Donnell il rosso, Jim McDermott il rosso, Soghart Yeogan O'Growney, Michael Dwyer, Francie Higgins, Henry Joy McCracken, Golia, Horace Wheatley, Thomas Conniff, Peg Woffington, il fabbro del villaggio, Capitan Chierdiluna, Capitan Boycott, Dante Alighieri, Cristoforo Colombo, Sam Fursa, Sam Brandano, il maresciallo Mac Mahon, Carlo Magno, Theobald Wolfton, la madre dei Maccabei, l'ultimo dei Moicani, Semiramide, il candidato di Galway, l'uomo che sbancò Monte Carlo, l'uomo sulla breccia, la donna che disse di no, Benjamin Franklin, Napoleone Bonaparte, John L. Sullivan, Cleopatra, S. Vernon Dillish, Giulio Cesare, Paracelso, Sir Thomas Lipton, Guglielmo Tell, Michelangelo Hayes, Maometto, Lucia di Lammermoor, Pietro l'Eremita, Pietro l'Imbroglione, Rosaline Labruna, Patrick W. Shakespeare, Brian Confucio, Murtaugh Gutenberg, Patrissio Velasquez, il capitano Nemo, Tristano Isotta, il primo principe di Galles, Thomas Cook e figlio, l'ardito soldatino, Arrana Pogwe, Dick Turpin, Ludwig Beethoven, la bella Irlandesina, Weather Healy, Angus il Caldi, Dolly Mount, Sydney Parade, Ben Oath, Valentine Greeth Rex, Adamo e Deva, Arthur Wellesley, Boss Croker, Erodoto, Jack Ammazzagiganti, Gautama Buddha, Lady Godiva, il Giglio di Killerny, Balor del Malocchio, la regina di Saba, Eki Nagor, Joe Nagor, Alessandro Volta, Jeremia O'Donovan Rossa, Dan Philip O'Sullivan Bear Una lancia abbassata di granito accuminato giaceva al suo fianco, mentre ai suoi piedi posava un feroce rappresentante della stirpe canina, il cui russare, misto a rugli intermittenti, denunciava essere egli sprofondato in un sonno inquieto, la quale supposizione era confortata dai rocchi ringhi e movimenti spasmodici che il suo padrone reprimeva di tanto in tanto coi colpi tranquillanti d'un poderoso randello rozzamente ricavato da una pietra paleolitica. Grazie. 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 Grazie.